Abbiamo una luce di traffico e una cartella nera. Vi mostro due strade per mostrare che sono obiettivi normali. Aprende la mano. Usa la luce di traffico e lo metto nella mano. Ora prendo la cartella nera e lo metto nella mano. Ora prendo un colore dalla luce di traffico, per esempio il verde, e lo metto nella carta nera. Lo metto nella cartella e potete vedere che il colore verde è passato misteriosamente sull'altra parte. Non lo credo, è impossibile.